Non solo l'Avellino questa sera al Menti, in programma alle 20.45 altre tre match, il Benevento di Mister Andrioletti, reduce all'esordio amaro di Torre del Greco, affronterà al vigorito la Virtus Franca Villa. I Sanniti, privi di Meccariello, hanno attinto dal mercato degli svincolati, portando in giallo rosso Ciciletti, per lui si tratta di un ritorno, e l'esperto difensore ex Bari Regina Terranova. I Biancazzurri di Villa, anche loro sconfitte all'esordio dal Picerno, hanno portato a casa le prestazioni di Kevin Biondi. Il Foggia di Cudini, reduce dal capo di Taranto e privo dell'ex Bianco Verde Tunkara, sfiderà in casa il Giuliano di Bernardotto, che alla prima giornata di campionato ha superato per 1-0 il Sorrento nel ritorno a casa. L'ambizioso Taranto di Capuano, invece, farà visita al Picerno di Murano e Ceccarelli, due squadre che in questo campionato vogliono ricoprire il ruolo di Guastafeste. Rinviata alla gara tra Brindisi e Catania, data da destinarsi, mentre la sfida Messina-Casertana si giocherà il prossimo 11 ottobre.